Allora, progettista Paola Faroldi, Giovanni Rossi, simona Rossi e Valentina Mancini. Paola Faroldi e Giovanni Rossi, ciao. Grazie a tutti. Il progetto è, grazie, Palazzo Bellotti, vicino a Fidenza, Papa, una casa del futuro per la vita e la storia. Questa è la nostra motivazione. Il progetto inserito in un contesto urbano, rigoroso e solo dal punto di vista della storia scientifica, rappresenta, secondo noi, una vera e propria rassegna all'interno dell'intervento architettonico importante sul piano dei volumi e in relazione alla testatura preesistente di tutte le possibilità espressive del materiale geratico, una sorta di manifesto anche questo, dove vengono anche alcune citazioni linguistiche come una specie di grafitismo antico e contemporaneo, sì, che è un po' alla testa dell'azienda. Il risultato è incoerente sia sul piano progettuale, sia per uso di materiali che non si limitano a esprimere una funzione. Racconto tutta la storia. Grazie. Grazie.